Noi sentiamo l'esigenza soprattutto di spiegare le ragioni del Partito Democratico, domani avremo questa grande manifestazione con Renzi e Piazza del Popolo, di farlo direttamente con la gente, di tornare nelle piazze e naturalmente questo aiuta a frenare, contenere una certa ondata demagogica, populista contro l'Europa che secondo noi è molto dannosa per le famiglie italiane e per le prospettive del nostro Paese.